I tre porcellini. C'erano una volta tre piccoli porcellini che avevano salutato il papà e la mamma per mettersi in viaggio e girare il mondo. Durante la primavera e per tutta l'estate vagabondarono giocando divertendosi e vedendo tanti posti nuovi ma quando arrivò l'autunno con le prime piogge si resero conto di aver bisogno di una casa per proteggersi dal freddo e per difendersi dal lupo. Il primo porcellino che era anche il più pigro si costruì una casetta di paglia. In un giorno sarà pronta disse felice ai fratellini e così fu. Quando la casa fu finita il porcellino entrò e chiuse la porta ma presto arrivò il lupo. Vieni fuori subito devo parlarti disse al porcellino impaurito. Al suo rifiuto il lupo prese fiato e soffiò forte sulla casetta facendola crollare così il porcellino fu costretto a scappare via. Il secondo porcellino si costruì una casa di legno convinto che sarebbe stata più robusta. Accolse il povero fratellino nella sua casetta e disse speriamo che questa casa regga più della tua. Il lupo affamato arrivò anche alla seconda casetta e ancora una volta chiese ai due porcellini di uscire subito. Al loro rifiuto soffiò forte così forte che la casetta venne spazzata via. Il terzo porcellino che era più saggio dei fratelli costruì con calce mattoni e molto duro lavoro una casa solida e robusta. Il primo e il secondo porcellino si rifugiarono nella sua casa. Vedrete che questa non crollerà disse. Infatti quando il lupo arrivò soffiò una volta e poi un'altra ma fu tutto inutile. La casetta era sempre lì. Al lupo allora venne un'idea e subito si arrampicò sul tetto per entrare dal camino e cogliere di sorpresa i tre porcellini. Ma questi intanto avevano acceso un grande fuoco. Anche loro avevano preparato una bella sorpresa per il lupo. Calandosi dal camino il lupo cascò proprio sopra il fuoco. Si bruciò la coda e mezzo intontito si prese anche delle bastonate dal porcellino saggio. Scappo via urlando e da allora non si fece più vedere. Fine.